...intervenire l'onorevole Massimo Enrico Baroni. Prego. Sì, grazie. In questa dichiarazione di voto vogliamo ricordare fino alla noia, fino alla nausea, ciò che per anni è stato nascosto, ciò che per anni non avete voluto... Noi sappiamo anche tra quelli del PD, chi ha fatto le proposte di legge vere, autentiche, che le hanno ribadite, reiterate, e con loro parliamo. Vogliamo ribadire che negli ultimi 15 anni gli italiani, per quanto riguarda il settore del gioco d'azzardo, hanno perso 300 miliardi di euro di risparmi, questi sono dati Istat, a fronte di un aumento che è stato di oltre il 100% del raccolto del gioco d'azzardo. Quindi c'è una correlazione ovviamente inequivocabile tra il fatto che i risparmi degli italiani sono diminuiti e il fatto che l'articolo 47 della Costituzione tutela il risparmio delle famiglie italiane e prevede che lo Stato le indirizzi in attività produttive. Il settore del gioco d'azzardo non è un'attività produttiva. Grazie. La ringrazio.